ok c'è la play che deve capire che io ho riattivato l'audio di Hall si sentite? pronto? adesso si veni! il problema ti sento il fatto è che su mi sentite tutti? pure... si si aspetta si 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 va bene su hangout mi smuto ma da solo mi si rimuta su discord invece mi smuto e non si muta però non funziona il microfono però il microfono funziona però evidentemente il microfono del computer non riconosce come se forse non funziona però il problema è che se io gli attacco una cuffia con l'auricolare cioè dovrebbe automaticamente ok, quello del computer non viene riconosciuto sti cazzo, ho messo la cuffia avrebbe riconosciuto quella invece non sono uguale e non so chi voleva darvi una mano aspetta mutati su su discord danny mutati mutati ma perchè mi senti su discord? eh si si perchè no doppio ok adesso siamo usati a posto va bene ma quindi funziona? no no io non ti senti su discord è a posto per me mi sente lui allora? allora qualcuno mi sente da discord vuoi che è bassissimo? ma no ok raga bella raga no minchia devo risolvere il suo problema ma vediamo un attimo mi bulliamo c'è il il fatto è che la mia plena non capisce che io ho riattivato l'audio di Hall infatti però io lo vedo x con la x ok però ti sento molto basso ok ok va bene va bene bene si sente comunque no vado che famo di incredibile io mi sa che che famo con un maiale su persona non lo so posso fare niente il numero 3 è già platinato il microfono è stereo mix sentito più vampirica comunque raga a parte che è figo mi piace però il problema mio quando guardo quelli quegli anni melli degli anni tipo 80 se non gli ho mai vissuti mi prende una rima volta di riprende una depressione quando prendo la bocca mi assurdi quando vissi cittadini ma incredibile perchè non lo so tu mi senti ah mi sentite? tantissimo cioè bene va bene o erratato? te è forte ma bene ora erratato perchè sei un coglione perchè sei un coglione vado a vedere se funziona il mitico ah si si funziona il micro era era un testo per me si 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 però non sentite doppio perchè tipo abbiamo due forse un altro è talmente basso che sono comunque ma anche una play of the game ce l'hai tutta quest'anno perchè? capodanno c'è una play of the game del capodanno anche il capodanno così vediamo tutto tipo ben visto che sono venuti dentro mi ha play of the game poi quando monterò il video non ci capirò un cazzo perchè avrò tipo audio su audio montati no? si infatti mi devo far mandare l'altra angolazione mi devo far mandare un'altra angolazione non c'è un'altra angolazione non c'è un'altra angolazione non c'è un'altra angolazione ah le fune ok ti faccio dal video adesso la passerina devi farmi mandare l'altra angolazione ok asbest le ho chiesto un'altra angolazione c'è c'è patata io c'è wow wow è un culetto perfetto ciao belli scusate avevamo fatto altro video chiamato dimmi bocca me l'hai chiamata scusa lei mi chiama patata e io come l'hai chiamata? come l'hai chiamata? io sono il patato e lei è la patata no come l'hai chiamata? patata 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 me l'hai chiamata davvero davvero c'era niente di conto di cosa si fa per cosa fa la pussi a un uomo cosa fa la pussi a un uomo? fa un madre fottitore madre fotti jones come? ci sei dai no se come ti sentivo sto approvando ma il mio sentito che non mi riconosce che devo portare un'assistenza ma non è la sua la fonte mi fa troppo dai vedrai la dolla si dovrò quando il computer le sentite prima non viene metto uno scherzo dai ma ma voi che state giocando in questo momento? niente giocando a una vita ok ma c'è danny danny se ci sei batti un colpo no danny c'è danny c'è ma si senti che stai smanettando a spiccare di aggiustare il microfono e tra poco devo tornare al bagno eh devo tornare al bagno non per motivi ma io non ho visto cosa dovevo vedere e gifnash ma dò che ha che ha che rinno che ha che rinno il gioco ha pokemon cover che è una rom fatta da quelli di 4chan in sei anni quelli di 4chan vecchio vecchio sei in ottime mani e e e e fa da tipo un po' memata tutta con così quella qual'era quella pokemon era giallo pishaz e quello c'eva la lunghia vabbè quello è uno schifo quello è tipo una scendiera no lo so però mi faccio c'è il pokemon che c'ho c'è dream meme non si vede ok ok sono fatti bene sono fatti bene carino wreck dream che c'è un albero nel cumo no non ti sentiamo danny bello quello di carichi sembra l'insettino di codi di holo night sembrava ma è uno yeti vabbè la testa questo è master bait qua che c'ha vabbè non ho capito e poi la nuvolale del buio qua il gatto e falce ah c'ha la coda con la falce e e poi è tipo un feto morto bellissimo che c'è un sacco bello ci sto eh adesso vi faccio vedere altri pokemon delle proketex ovviamente questa flashcard come l'ha ottenuta ne comunque sono i soldi sono i soldi ma è un ritaglio di tapide ovviamente poi c'è ara bomb una bomba araba ma veramente niente gabry mutati su discord c'è un pezzo di dolce mattone o lo prendi? allora a quanto pare nizakbar mutati su discord e vieni su sul parte della play io vado in bagno a dopo senti che vado a prendere le dolce mattone allora a quanto pare non funziona fornazi una fornace nazi e poi dopo che c'è? no 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 non so cosa devi mutarti da gabry devi mutarti da disco da discord così ci senti del party ma sei sicuro? si si poncito è un messicano con il poncio si marionette titai è una tetta ma come la petto? petto a cappezza octai ma cosa fai Dani? cosa smanetti? non mi funziona il microfono ma io ti sento dal computer però siccome nelle impostazioni è tutto a posto dicono che forse è un problema del dell'hardware quindi dovrei portare un'assistenza tramite il tiro del culo ma adesso ti sei collegato da telefono no sono dalla play ah ho capito ma sei noto come collegati al telefono i party del telefono vabbè magari vedremo se non so che si se in bocca si metta di una persona lo guardo su si perché tipo io adesso sono col telefono eh ma me dal telefono eh dopo un po' crash non eh si però mi gira un po' le palle perché uff vabbè che non lo uso non lo devo fare però ah fai il pezzo di caldo dai non è così ecco si chi sei un minuto ah oh si ti rimasta vedi perchè io ho aggiungito 10 no 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 Dica Yuriko Taigo Non puoi prendere la carta Gerica E se riusciamo a giocare direttamente in due Non puoi prendere la carta Gerica